Sono Stefano Pantano e mi auguro che il problema della piscina della Garbatella, della SS Lazio Nuoto, si possa risolvere presto. Una piscina storica, una società storica, dove sono nati i campioni del nuoto, della palannuoto, dei tuffi olimpici e paralimpici, una società anche impegnata nel sociale. Il presidente della SS Lazio è stato anche il mio presidente, Renzo Nostini, quindi una società alla quale sono legato da profondo affetto. Quindi mi auguro che tutto questo si possa risolvere presto. Grazie.